Amici di Football Is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare il diario della 35esima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Un turno che ha visto rimandata la festa scudetto della Juventus, ma che allo stesso tempo ha emesso diversi verdetti. Quindi sappiamo infatti quali saranno le sette squadre che la prossima stagione giocheranno le coppe europee, le matematiche prime quattro e poi le squadre dal quinto al settimo posto in classifica. Chi in teoria l'anno prossimo giocherà la Champions, a meno che succeda qualcosa in base alle coppe europee, saranno Juventus, Atalanta, Inter e Lazio. Europa League invece per Roma, Milan e Napoli partono direttamente ai gironi, malgrado l'attuale settimo posto in classifica dopo la vittoria della Coppa Italia e malgrado anche la sconfitta irrelevante nell'ultimo turno in quel di Parma. Detto ciò, iniziamo un po' a vedere come sono andate le cose. Partiamo dalla Juventus, Juve che perde 2-1 sul campo dell'Ughinese. Una sconfitta di poco conto in termini di classifica, però allo stesso tempo sicuramente non un bel modo per avvicinarsi alla Champions League. Un primo tempo che sembrava una partita d'allenamento, un secondo tempo invece dove proprio la Juve non è scesa in campo e l'Udinese è stata brava, è stata furba a ribaltare la partita. Quando poi vedi giocare la Juve, se pensi fino a 3-4 anni fa, ti ricordi di una squadra che ti dava la sensazione che prima o poi il gol lo faceva. Adesso invece vedi una squadra sbogliata, una squadra scarica e che può perdere contro diversi avversari. Io poi non vedo neanche la Juve come una squadra così tanto più forte delle altre. Vince perché è quella più abituata a vincere, però non è che sia di tre categorie superiore alle altre squadre di Serie A. Se penso poi anche per esempio alla stessa Udinese, prendo due nomi, Depol e Fofanà. Quest'ultimo tra l'altro autore di un bel gol, gol del 2-1 dove si è fatto metà campo. Due giocatori non da top club, però comunque possono sicuramente insinuare gli attuali scadenti centrocampisti della Juventus. Dopo la Juve, al secondo posto troviamo l'Atalanta. Atalanta che grazie alla vittoria 1-0 sudata contro un buon Bologna ha scavalcato l'Inter. Una dea non brillantissima, stanca, però comunque una vittoria da grande squadra e di carattere, arrivata nel secondo tempo con il gol del dodicesimo uomo, così lo chiamo io, Luis Muriel, entrato dalla panchina. Atalanta che appunto scavalca l'Inter al secondo posto della graduatoria, Inter fermata 0-0 in casa contro la Fiorentina. Una partita in cui i Neurazzurri di Conte per almeno 60 minuti hanno attaccato, sì, però erano spuntati in avanti. C'è stato anche un grande Terraciano che li ha bloccati ed è anche andata bene perché, è vero, la Viola ha fatto una partita tendenzialmente di contenimento, però comunque ha avuto anche qualche mezza occasione nel finale. E ti è anche andata bene aver pareggiato perché partite di questo tipo si potrebbero anche perdere, dove tu fai 40 tiri in un'ora, gli altri te ne fanno due negli ultimi 30 minuti e di questi due almeno uno ti può finire dentro. Quindi è un po' questo il discorso. Torna poi a vincere la Lazio grazie alla vittoria 2-1 in casa contro il Cagliari. Più in basso bene la Roma che passeggia 6-1 sul campo della Spal ultima e derelitta in classifica. Vince poi il Milan 2-1 contro il mio Sassuolo in quello che era il match di cartello di giornata. Una partita non bellissima, ci si poteva aspettare di più visto il momento delle due squadre. Un primo tempo discretamente spezzettato e qualche errore malgrado i tre gol. Un Sassuolo che ha iniziato la partita in modo aggressivo e determinato, salvo poi affievolirsi col passare dei minuti. Il Milan invece nel primo tempo ha avuto il merito di essere più concreto e cinico. Seconda parte di gara in cui il Sassuolo ha giocato in dieci per un intervento veramente da scellerato, da folle. Ditelo voi come vi pare di Burrabia alla fine del primo tempo. Un Sassuolo che ok non ne si è scomposto, però comunque è una squadra stanca che non ha creato pericoli e al Milan ne è bastato amministrare la partita. Giudicando un po' i miei neroverdi, non dico che sia stata una prestazione inguardabile, una prestazione da tre in pagella, però comunque sono sicuramente più le note negative che non quelle positive. Salvo solamente Locatelli che ha fatto una buona partita, ha recuperato diversi palloni, lo trovavi ovunque. Non mi è dispiaciuto neanche Rogerio che lo sto vedendo abbastanza bene. Bene poi anche Caputo per il gol, male tutto il resto. Male la difesa perché abbiamo preso due gol in fase di disimpegno. Abbiamo poi una coppia centrale Marlon-Peluso che non si può proporre. Marlon-Peluso non si può proporre. Fa cagare! Marlon-Peluso fa cagare! Marlon-Peluso fa cagare! Marlon-Peluso fa cagare! Marlon-Peluso fa cagare! Ecco, penso che si sia capito perché tu non puoi mettere in difesa uno che ha due cozze al posto dei piedi che rischia di causarti dieci rigori contro a partita e un altro che è poco buono a fare quello che in teoria dovrebbe sapere fare che mi piaceva poco quando in teoria mi sarebbe dovuto piacere e figuriamoci adesso che ha 63 anni come Peluso quindi insomma faccio anche un po' una critica a De Zerbi per una formazione che non mi è per niente piaciuta non solo in difesa ma anche in attacco scelte che io avrei fatto diverse tra Araslin trequartista, Raspadori esterno alto quindi insomma anche questo poi comunque questa sconfitta non pregiudica niente perché il campionato dei neroverdi rimane positivo non si va in Europa però comunque io non ho mai chiesto l'Europa anzi sono più contento che non si vada in Europa perché non vedo questa squadra mentalmente pronta per affrontare l'Europa League comunque senza dilungarmi troppo sul Sassuolo sul Milan cosa dire? Buona vittoria una vittoria meritata per un Milan che si è dimostrato una squadra più forte e matura è più pronta ad affrontare l'Europa migliore in campo come al solito Ibrahimović che guida i rossoneri è il faro in mezzo al mare del Milan Ibrahimović è il faro in mezzo al mare del Milan Ibrahimović è il faro in mezzo al mare del Milan che ha poi anche segnato due gol è stato diverse volte pericoloso la Noaglu bene per i due assist ha giocato un buon primo tempo nel secondo un po' meno e poi bene anche il duo di centrocampo che si ben assera una coppia che sa completarsi bene li vedo ben integrati l'uno con l'altro però in questa giornata la notizia più bella in casa Milan è la conferma di Pioli per la prossima stagione in modo tale che riesce a dare un po' di continuità al progetto Parlando poi della lotta per la salvezza il Torino pareggia 1-1 in casa contro l'Ellas Verona Granata non ancora del tutto al sicuro fa un passo avanti l'Udinese ma di questo ho già parlato retrocede matematicamente in Serie B il Brescia dopo la sconfitta 3-1 contro il Lecce Salentini che possono quindi ancora sperare nel mantenere la massima categoria ma che però rimangono a 4 punti dal quarto ultimo posto occupato dal Genoa Graifone che ha vinto 2-1 il derby della Lanterna contro la Sampdoria un Genoa che nel derby si è dimostrato più convincente e più determinato rispetto agli avversari che quindi ha portato a casa meritatamente i 3 punti va bene ragazzi questo è stato un po' un riassunto dell'ultima giornata di Serie A fatemi sapere cosa ne pensate io come al solito mi invito a scrivere il canale YouTube a seguirmi su Facebook a seguirmi su Instagram a lasciare un commento a lasciare un mi piace a spammare ferocemente questo video in ogni singolo punto del planisfero detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao